Amiche e amici di Spazio Games, oggi ci troviamo qui con un bel annuncio che aspettavamo da tanto tempo di poter fare perché se visitate spaziogames.it oggi potete vedere la nuova versione del nostro sito. Ci stavamo lavorando da tempo, il nostro modo di coronare il lavoro che abbiamo fatto sotto l'editore 3Labs negli ultimi tre anni è una versione del sito estremamente leggera, votata tutta la leggibilità, molto bella da navigare sia da desktop che da mobile con la pubblicità ridotta ai minimi termini per fare in modo che l'esperienza del lettore non venga mai compromessa e abbiamo lavorato tenendo a mente il fatto di voler dare peso, valore e centralità ai contenuti che vi proponiamo e ai videogiochi di cui vi parliamo e di cui ovviamente continueremo a parlare. Sono i primi giorni quindi aspettiamo i vostri feedback, sentitevi liberi nei commenti di farci sapere cosa ne pensate o se doveste riscontrare qualcosa ancora da affinare, non esitate a farcelo sapere. Io intanto ribadisco, vi raccomando, visitate spaziogames.it, fateci sapere come va perché c'è un sito tutto nuovo che vi aspetta ed è la nuova casa dei videogiocatori.